Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni e siamo qui in questo nuovissimo tutorial Questa è la seconda parte del vecchio tutorial sul come creare un buon logo Allora, nello scorso tutorial che se non avete ancora visto vi invito a vedere Trovate il link in descrizione o nella scheda che comparirà magicamente adesso in alto a destra Abbiamo visto un pochino le basi, abbiamo visto come scegliere un buon font Poi abbiamo visto come impostare in Photoshop il nostro lavoro Oggi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere un pochino dove prendere l'ispirazione Come prendere l'ispirazione e qualche altro piccolo trucchetto Ripeto ancora una volta, questo è un tutorial che serve a darvi le basi sul come creare un logo Ma essendo una cosa creativa, sta a voi farlo Io non vi insegnerò come utilizzare gli strumenti su Photoshop Vi insegnerò cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare Allora, direi di partire subito Cosa facciamo in questa prima parte delle video? Andiamo a vedere qualche piccolo esempio di loghi che ho trovato sulla rete Ma in realtà ne potete trovare a bizzef per prendere l'ispirazione Allora, prendiamo per esempio questo logo qua che state vedendo in sovraimpressione Per tutti i loghi che andremo a vedere, andiamo a vedere diverse caratteristiche Allora, prima caratteristica, colore Colore giallo e nero stanno molto bene insieme L'accostamento sta molto bene In realtà il nero va più bene o bene con tutto Passiamo subito al vedere un attimo cosa c'è di particolare Allora, questo logo ovviamente cosa vuole farci venire in mente? Minimal, ok? Perché ce lo fa venire in mente? Perché abbiamo la M Poi ci viene in mente la I perché la vediamo qua Poi però prima di passare avanti Vediamo che c'è ancora questa N Che è stata infilata Diciamo per tagliare la I Quindi vediamo mi, n e poi ml si fanno completare la parola da soli Quindi possiamo prendere spunto per due cose da questo logo Prima di tutto non è detto che ogni singola lettera debba essere dentro Potrebbe essere che l'inizio di una frase ci ricordi direttamente la parola Poi seconda cosa molto importante Non sempre le lettere devono essere messe dentro al logo Possono essere la parte che differenzia il logo Cioè la differenza del logo Al posto che una parte grafica ha aggiunta Passiamo al prossimo logo Il prossimo logo invece è un logo che ho scelto di farvi vedere Vabbè per l'accostamento di colori Voi tenete conto che i loghi normalmente si fanno sempre Come vi ho già detto In bianco e nero All'inizio si progettano sempre in bianco e nero Quindi voi qua vedete degli sfondi In realtà gli sfondi sono stati messi solo Ed esclusivamente A scopo illustrativo Non è detto che poi non vadano messi sopra Che ne so qua Abbiamo uno sfondo che sembra un cielo Non è detto che verrà messo qui magari su un prodotto verde Non è detto Ovviamente sta nell'ingegnosità di chi creerà il packaging Magari facciamo fin da che Bird sia un succo di frutta Ok? Se è un minimo intelligente Chi si occupa del packaging Cioè della confezione del nostro prodotto Metterà un colore azzurro Perché Bird ci ricorda il cielo Infatti in questo caso Il grafico che si è occupato del logo L'ha messo Ha messo all'azzurro Tendente al bianco Qui però cosa vediamo di particolare? Vediamo il fatto che Allora prima di tutto Bird mi spiera leggerezza Ok? Quindi un bel corsivo Il corsivo se guardate Sembra molto meno compatto Che per certi versi Il compatto ragazzi È molto utile nei loghi Perché utilizzi meno spazio E ti dà molta più aggressività In questo caso invece abbiamo Questa spaziatura Che è quasi eccessiva E il corsivo Li dà molta più apertura Ma la cosa ancora più importante È quella B lì Ragazzi Quello Certo Il colpo di genio In realtà ho anche già visto Da altre parti Per esempio c'era Un altro logo Che era Freedom Dove la M La parte superiore della M Che è fatta uguale a questa Voi provate a Immaginarvi una M Fatta con questo uscellino Qua a sinistra Veniva staccata Dalla M appunto Finale di Freedom E partiva E se ne andava Questo è anche un altro utilizzo Comunque capite che Ci dà quel senso di movimento E ci ricorda l'uccello In questo caso La B si ricapisce Cioè si capisce subito Sempre per il discorso di prima Sono parole tipo Minimal Bird Sono tutte parole che noi conosciamo Ok Ci viene da completarle Così Questo è un logo flat E l'oof pants Praticamente ci ricorda L'oof Love Cioè l'amore Elefants Quindi gli elefanti E abbiamo questa genialata Degli elefanti Che vanno a fare un cuore Ok Guardiamoli bene Subito Mi viene da pensare Che ne so Mammut Che cavolo è quello Ma poi leggo il nome E mi viene stampato in testa Perché io collegherò sempre Elephant Love Sempre Sempre Poi ovviamente Voi dovete pensare Con la testa Di un inglese Perché la maggior parte Dei loghi Sono creati Per il pubblico inglese A meno che non siate Una multinazionale Ricca sfondata Che si può far fare Loghi Differenti O pagare talmente Tanto dei grafici In modo che Facciano un logo Tenendo conto Di tutte le possibili nazioni Su cui è espanso Il mercato Di questa Determinata azienda Ma nel nostro caso Dato che io so già Che sto parlando Con persone Che si interessano Al massimo Al massimo Della propria aziendina Del proprio padre Da questo Logo Possiamo imparare Una cosa Possiamo imparare Il fatto che Bisogna mettere Anche qualcosa Che ci ricordi Il marchio Che ci ricordi Il nome Mentre qua Tornando indietro Nel bird Ok Mi sta bene Ma se io mi vedo Solo con l'uccellino lì A meno che Non me lo stampiate Su tutte le bottiglie Di bibite Possibili al mondo Allora magari Mi potrebbe venire in mente Io non lo collegherò mai Invece Dove diavolo Li vedete Due elefanti Che fanno così Da nessuna parte Vi viene subito Subito In mente Poi vabbè Scelta dei colori Pazzesca Perché questo Rosso un po' Sbiancato Con questo crema Centrale E' azzeccatissimo Qui invece Possiamo vedere Come un logo Se ben fatto Può essere Riutilizzato Ed essere motivo Di Branding Ancora ulteriore Quindi parliamo Di Modifiche Di ricondursi Direttamente Alla casa madre Allora per esempio Qui abbiamo FedEx Corporation Tra l'altro vi faccio notare una cosa Che non so se avete mai notato Guardate cosa c'è Tra la E E la X Sono sicuro che la maggior parte di voi Non l'aveva ancora vista Quello è Una delle genialate Sul lato grafico Più importante Di tutti i tempi Comunque Come vedete Da questa mappa Possiamo vedere che c'è di tutto Ok Cambia solo E X Inoltre La FedEx Cosa ha fatto La FedEx In realtà Si è costruita Già una certa fama Con quel logo Ormai è conosciuto Da tutti Il logo FedEx Quindi Al posto di Mettersi lì E rifacciamo Tutti i loghi Uno per ogni divisione No Cambiamo colore E siamo a posto Qua invece Abbiamo un altro esempio Di come sfruttare Il Valore O meglio Il significato Della propria azienda In questo caso Si legge benissimo L'azienda è Half E half Per chi non sapesse Vuol dire Metà In inglese In questo caso Infatti Il testo è tagliato a metà È un testo Molto squadrato Semplice Ed è tagliato a metà Voi In realtà Guardate bene Allora La H Noi la mettiamo lì Per un discorso Di testa Perché vediamo che È tutto uguale Ma la F Ragazzi Come fate a capire la F Io volevo solo farvi notare quello Cioè normalmente Se io ti mettessi solo quella Quella cosa lì Quella F lì Vi giuro che non la riconoscereste mai Pensareste Qui manca qualcosa Ok Non posso determinare Invece La genialità Di un logo È il fatto che Tu metti delle lettere in serie E puoi addirittura Pacioccarle talmente tanto Che una di queste Può perdere la visibilità Ma allo stesso tempo Nell'insieme Noi riusciamo a ricondurre Qua Di nuovo Solito discorso È una Alfa È una parola inglese È di uso comune Quindi ci viene subito in mente Magari se io mi mettessi Agro moderni Nessuno lo conosce E sarebbe una cosa Un po' impossibile E questo è anche vero Poi guardiamo questo Per esempio Un altro Flat logo Quindi logo piatto Ed è Horror Films Questa È una figata Perché? Perché loro hanno due parole Ok Una è Horror L'altra è Films Allora Come rappresentiamo Horror? Subito In mente ci viene subito La faccia che ne so Di Cos'è Dovrebbe essere Scream No? Il personal Comunque una Facciamo finita Una maschera bianca Con gli occhi e la bocca nera Ok Quella classica Che spaventa Bene Teniamola presente Poi Films Cosa ci viene in mente in Films? A parte adesso Che magari ci potrebbe venire In mente Una telecamera Ma una volta I girati erano tutti Tutti su pellicola Vi ricordo Quindi Ecco qui Horror Films Anche perché Vi faccio notare una cosa Se avessimo messo una Una videocamera Una telecamera Ci sarebbe venuto Molto di più in mente Un canale Che fa video Non film Invece così Ce lo richiamo Molto di più Quindi li hanno uniti Ed è veramente Una cosa pazzesca L'ho ritrovato Una cosa pazzesca Poi Vediamo ancora Quello della 24 ore di Eleman Solito discorso Ragazzi Ci può essere Una parte del logo Che è nascosta Da questo logo Però cosa possiamo Imparare Possiamo imparare Il fatto che Forse è meglio Se è la prima volta Che si fa un'azienda Se non si ha Un certo pubblico Che attende il logo Farlo semplice Questo perché Perché se io adesso Ti dico 24 ore Tu o pensi Alla valigetta O pensi Alle 24 ore di Eleman Se sei un maschio Se conosci un minimo Ok Ma adesso Infatti una volta Il logo non era così Della 24 ore Quindi voi potete pensare Di fare un branding Di questo tipo Secondo me Un logo di questo tipo Solo se È un Rifare la grafica Di un qualcosa Già esistente In modo che Il nome Almeno per Che ne so Un centinaio di persone Sia conosciuto Dopodiché Si riparte Poi ciò Non vi vieta Di farlo anche Fin da zero Ma io lo vedo Un po' come un problema Qua abbiamo Un altro flat logo Molto semplice In realtà questo Come vedete C'è Sculpt Sculpt mi fa venire in mente Uno che scolpisce Una statua Ok Quindi Una statua che Col colore bianco Per esempio Mi ricorda il marmo Quindi mi viene in mente Che ne so Le varie madonne Non pensate male Le varie madonne Quindi Con questo velo Che viene giù Ok Formosamente Bene Guardate la K La K è molto formosa Avrebbero potuto tenerla Come Hanno fatto con la T Con la L Tutto il resto Avrebbero potuto Tirarla A dritta Invece no Quindi questo Si collega sempre Al discorso Di scegliere Un font Buono Poi qua Per esempio Vediamo che c'è la S Che sinceramente Non è che mi faccia impazzire In realtà Però c'è questo logo Che probabilmente Dopo un certo periodo Di Diciamo Di visibilità Rimane in mente Perché penso che Una roba del genere Rimanga abbastanza in mente Ora ci spostiamo Velocemente su photoshop Perché vi voglio ancora far vedere Due o tre cose E dopodiché Chiudiamo il video Non lo so Ragazzi Forse farò altre cose Del genere Sempre sul lato logo Ma molto più avanti Comunque voglio darvi Solo un'infarinata Poi dopodiché Vedremo se Vedrò se Rilasciarvi magari Qualche template Tutte queste cose qua Allora Cosa molto importante In un logo C'è bisogno Di essere Perfetti Perfetti Dal punto di vista Delle proporzioni Quindi Se non l'avete ancora fatto Ragazzi Aprite Photoshop Visualizza Righelli Attivato Oppure Control R Devono essere Attivati Perché Perché se noi Selezioniamo Lo strumento Freccia Puntatore Chiamatelo come volete E andiamo qua sopra Teniamo premuto Il tasto sinistro E tiriamo giù Tac Abbiamo i righelli Sono righelli Da un certo punto di vista Magnetici Nel senso che Come vedete Appena mi avvicino al centro Tac Sono magnetici E questo è molto utile Perché vi calcolo una metà Per esempio Io adesso Senza farmi problemi So qual è il centro Di questa area Per esempio Posso allo stesso tempo Che ne so Dico Ok Mi faccio così Poi Che ne so Mi faccio Un cerchio In realtà Non mi serve Più di tanto Mi serve solo Dargli Una proporzione Perfetta Io di solito Faccio così Ragazzi Quando devo delimitare Vedete Me lo riporto Di modi qua Tac E voilà Adesso Ho due parti Perfettamente Uguali Da una parte E dall'altra Quindi Righelli Mi raccomando Utilizzateli molto Poi Tornando al discorso Dell'altra volta Mi raccomando Ragazzi Allora Possiamo Avere Diversi tipi di logo Possiamo avere Dei loghi Che sono Integrati In una forma Tipo il mio Eeeh Ascoltate che Tengo colore Perché Mettiamo questo rosso Qua Eeeh Allora Possiamo avere Dei loghi Che sono integrati In delle forme Questo Cosa vuol dire Però Vuol dire Che saranno Probabilmente Molto limitanti Dal punto di vista Dell'utilizzo Ok Perché potreste Ritrovarvi in situazioni In cui È meglio Non utilizzarli Per esempio Per esempio Io nei miei video Non metto Eeeh Eeeh Scritta Nel bordo Agro moderni Il logo Agro moderni Metto Agro moderni Scritto Però perché Lo vedo male Mettere un logo Eeeh Tondo O rettangolare O quello che volete Ah ecco Un'altra cosa Mi raccomando Se riuscite I loghi Non fateli mai Perfettamente rettangolari O perfettamente quadrati Dateli sempre Un pochino di curve E mi raccomando Sempre del solito discorso Eeeh Cercate Di farle formose Direi che Più o meno è tutto Lo so che magari Alcuni di voi Si aspettavano altro Da questa serie Di tutorials Ma Mi vedo Mi vedo costretto A fare una cosa del genere Per il semplice fatto Che Bisogna avere L'ispirazione Per fare un logo Ecco Questo mi ero dimenticato Di dirlo Lo tocco subito Come argomento Allora Dovete capire Come tirar fuori La creatività Ok E soprattutto Dovete capire Che la creatività Non c'è Solo quando Aprite il computer Quindi quando Vi viene da scarabocchiare A scuola Quando siete Sull'autobus Magari Con le cuffiette Avete solo voglia Di pensare A voi stessi Al vostro canale Al vostro futuro Da partner Di youtube Con i big money Magari Vi viene da pensare Un attimo A un logino Ok Questo è il discorso Cercate Se non avete Se avete Una buona memoria Vi basta Memorizzarlo Però se avete Un buon pezzo Di carta sotto Fate lo sketch E soprattutto Prima di iniziare A lavorare Se seguite Il mio consiglio Prima di iniziare A lavorare Seguite questo consiglio Prendete O un foglio Di blocco note Sul computer O ancora meglio Un foglio di carta Perché ragazzi Lo so che la carta Ormai si sta distinguendo E io sono il primo Che utilizza Spesso Computer Cellulari Per prendere appunti Ma fidatevi Su queste cose creative La carta emana Un'energia pazzesca Ed è proprio La meglio Per prendere idee E concept Allora Vi consiglio di fare Una specie di brainstorming Ok Voi pensate Al vostro canale Mettete Scritto Il nome del vostro canale Ok Al centro della pagina Ve lo scrivete grosso E poi attorno Ci scrivete Tutte le parole Che c'entrano Come se in un video Doveste mettere il tag Ma mettete di tutto Quindi potrebbe essere Che ne so Il mio canale Si chiama Leoni Blue Ok Potrei mettere Come attorno Felini Potrei mettere Colori Perché blu E anche colore Potrei mettere Il fatto che faccio Gameplay Tutte queste cose qua Mettiamo tutte le parole In questa pagina E poi ce le rileggiamo Insieme Perché Perché Appunto Questi sono I modi Per scegliere Qualcosa del genere Loro Lovepants Avrebbero potuto fare Che ne so Un quale Con al centro Un elefante No Loro hanno voluto creare Un qualcosa Che addirittura Porta due elefanti Insieme Ok Quindi Loro cosa hanno detto Amore Ok Allora amore Cosa vuol dire Amore vuol dire Due o più persone E allora non ha senso Fare un cuore Con al centro Un elefante No Prendiamo due elefanti Perché l'amore Si fa in due Capito Questo è ciò Che vi voglio Anche dire Voi dovete cercare Di prendere ispirazione E di fare tanto Brainstorming Che può sembrare Una cagata Anche perché Soprattutto Quando magari Te lo fanno fare I professori Sembra Boh Perdiamo tempo Scrivere alla lavagna Cosa caso Ma vi assicuro Che è utilissimo E se si utilizza C'è un perché Anche nel mondo Se si utilizza Anche nel mondo Del lavoro C'è un perché Niente Io vi ringrazio Tantissimo per la visione Spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo domani Probabilmente con un video O la live Non lo so bene Oggi Halloween Volevo fare uno speciale Di Halloween Magari domani riesco A fare uno speciale Di Halloween Non lo so Niente Dopo tutte queste Mille mila parole Vi ringrazio Vi invito a lasciare Un bel like Ciao a tutti ragazzi